Il concorso La ricetta del sindaco è la manifestazione enogastronomica riservata a tutti i sindaci del Friuli Venezia Giulia ed ha lo scopo di raccontare il territorio attraverso le ricette preparate con prodotti locali. Promosso ed organizzato dall'Unione dei cuochi del Friuli Venezia Giulia, con il coinvolgimento degli allievi delle scuole alberghiere IAL, il concorso è diventato un riferimento delle manifestazioni regionali. I sindaci per un giorno diventano cuochi e si scimentano nella valorizzazione dei prodotti locali. Questa mattina è la prima giornata nella quale ogni primo cittadino realizzerà il piatto che ha scelto. Il piatto verrà poi valutato da una commissione. Chi supererà questa prima prova andrà alle finali che si svolgeranno il prossimo mese e sarà proclamato vincitore e quindi ha realizzato il miglior piatto. Alla curiosità, infatti, di vedere i sindaci alle prese con piatti e cibi, c'è il valore di riscoprire le tradizioni più antiche, facendole diventare in qualche modo patrimonio collettivo e storia comune. Il sindaco di Pordenone è Claudio Pedrotti. Con Alexandru stiamo preparando un piatto che ha le crespelle come parte nobile esotica, ma in realtà il contenuto, col grisul, un po' di montaseo, di latteria e un po' di formaggio salato, ci riporta alle nostre tradizioni locali. Secondo me l'insieme è una cosa buona, semplice e che valorizza i prodotti locali. Grazie. 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 Grazie.